La spetroscopia è un metodo di indagine della materia basato sulla scomposizione della luce. Attraverso la spetroscopia è possibile indagare la composizione chimica dei corpi celesti ed alcuni fenomeni chimici correlati alla natura della luce, come l'effetto Zimman o l'effetto doppia. Nel campo dell'astronomia amatoriale la spetroscopia è ancora un campo poco indagato, probabilmente perché i suoi strumenti alla portata dell'astrofilo hanno ancora prezzi paragonabili a quelli di telescopi di buona qualità. È possibile però avvicinarsi a questa affascinante materia per mezzo di una realizzazione in prossimo e questo è stato lo scopo del progetto Ra, che derivata da Ra, l'unità del Sole dell'antico Egitto. La prerogativa rinunciabile del progetto è definibile di materiale, per lo più di recupero e quindi di contenimento dell'astrofilo. Il lavoro è iniziato con la realizzazione di un rudimentale strumento con reticolo olografico in traduzione, nella bassa risoluzione ed utilizzabile prevalentemente per ottenere spette del Sole. Tramite il programma Visual Spec è stato possibile ricavare il profilo completo dell'aspetto del Sole ed applicare con successo la legge di Wynn per il calcolo della temperatura, superficiale del Sole, uno sperimento dall'alta valenza didattica. In seguito è stato sviluppato e realizzato uno scotroscopico sistema classico con reticolo e riflessione, decisamente più performante dal punto di vista della risoluzione. Con questo strumento sono state ottenute buone immagini di regioni particolari dell'aspetto del Sole anche nel secondo ordine, sebbene lo schieno ottico sia ottimizzato per lavorare prevalentemente nel primo ordine. Naturalmente lo spettrografo acquisisce le immagini tramite l'accoppiamento con una webcam ed è possibile osservare lo spettro del Sole anche tramite un oculare, ma future modifiche potranno essere apportate per permettere l'acquisizione di immagini con le moderne camere DSLR e siti astronomici, con lo scopo di poter registrare spettri di oggetti deboli come stelle, nebunose o comune.